Purtroppo la burocrazia sta ammazzando le piccole e medie imprese, sta ammazzando i commercianti e in questo caso ha ammazzato anche dei cittadini. Noi abbiamo delle proposte concrete per aiutare i commercianti che sono in difficoltà. Possono immediatamente fare un ordine ai loro fornitori, i fornitori spediscono immediatamente la merce, possono ripartire immediatamente a lavorare e queste forniture vengono pagate dallo Stato. I loro fornitori possono scalarli ad esempio dall'IVA o dalle tasse in modo che questi soldi arrivino direttamente ai commercianti senza passare da regione, comune e poi non si sa mai quando arriveranno direttamente a loro.